Il mercato a chilometro zero arriva anche a Campli. A partire dal 26 ottobre, ogni domenica, appuntamento con il Mercato di Campagna Amica, organizzato in collaborazione con la Coldiretti Teramo per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile attraverso la filiera corta. Siamo a Campli, un mercato storico della provincia di Teramo e quindi siamo orgogliosi di questo. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la concessione e la collaborazione e l'associazione Campli Domani per aver promosso e aver contribuito in maniera determinante all'allestimento di questo mercato. Abbiamo coinvolti i produttori più significativi del territorio affinché possano offrire le loro produzioni del territorio azientali direttamente ai consumatori, nella logica di Campagna Amica, cioè il prodotto del territorio, il prodotto garantito dai produttori, a un costo accessibile e che abbia i requisiti di bontà e di qualità racchiusi nella tipicità stessa dei prodotti. Sin dall'inizio l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Quaresimale ha voluto puntare fortemente su un rinnovamento che riguarderà anche quindi il mercato domenicale. Questo porterà dei benefici a tutte le attività commerciali che sono sul nostro comune e anche a tutte le famiglie che comunque potranno godere di maggiori servizi e offerte per quanto riguarda anche il mercato domenicale camplese. Caratteristica del mercato di Campagna Amica è proprio la disponibilità di prodotti locali a basse emissioni di CO2 in quanto a chilometro zero, con possibilità anche di consegna a domicilio dei prodotti. Diamo ai nostri visitatori i prodotti veramente dal produttore al consumatore, quindi il chilometro zero viene rispettato in tutti i sensi. Vi invitiamo tutti il 26 a mattina all'inaugurazione di questo mercato e speriamo di proseguire il nostro progetto durante le altre domeniche perché è importante offrire ai nostri visitatori questi prodotti della zona soprattutto.